Ciao ragazzi e benvenuti alla terza lezione di Construct 2. Oggi parleremo delle animazioni dello sprite. Quindi vedremo il nostro personaggio animarsi. Questo omino che avevamo fatto, siccome sembra un brutto autoritratto fatto da un bambino storpio dell'asilo, lo cambieremo con degli sprite già pronti. Ho scaricato dal sito di Construct 2 delle cose che potete scaricare anche voi, come personaggi, suoni, paesaggi che si possono usare liberamente. Ecco, vedete. Si intendevo proprio il desktop ordinato con Saitama di One.man che mi osserva. Non perdiamo tempo, vedete questa cartella? Lì ci sono gli sprite che useremo. Cerchiamo, cerchiamo, cerchiamo. Ecco. Questo brutto alieno fa al caso nostro. Quindi cancelliamo questa opera d'arte. Ops, ma che cacchio sto facendo? Ecco, facciamo tasto destro sul riquadro bianco, facciamo Import Frame from Files. Cerchiamo la nostra cartella. Ecco il nostro brutto alieno. Ora selezioniamo solo il frame dove sta fermo. Ecco. Ora creiamo una nuova animazione che sarà quella della camminata a destra. Io la chiamerò WalkDX. Quindi rifacciamo Import Frame from Files e selezioniamo i frame dove quel brutto slime blu cammina. Ecco un'anteprima dell'animazione. Ecco un'anteprima dell'animazione. Quindi andiamo sul comando Specchia e clicchiamolo mentre teniamo Tremuto Shift, così si specchia tutta l'animazione. Ok, chiudiamo. A giusto dobbiamo fare l'animazione del salto. Nuova animazione e cerchiamo due frame adatti. Ecco lì. Ok. La lezione è finita. Nella prossima lezione impareremo ad associare i comandi alle animazioni. Ed ora un commento da Tontube. Ma sono giapponese. Bene, grazie per l'utilissimo commento. Ciao.